benvenuti e ben ritrovati ad anima ribelle live alla ventottesima puntata bene o quest'oggi sono da solo non c'è ida ma ci sarà la prossima volta in questa puntata tratteremo del valore della accettazione che udite udite ve lo faccio vedere subito eccolo qua che eleva il degrado del perfezionismo e qui vedete il nostro capo d'opera già pronto per essere contemplato esaminato e trattato allora innanzitutto dobbiamo comprendere questo valore l'accettazione che eleva riporta alla frequenza originale quel degrado quel disagio che viene chiamato il perfezionismo ma che cos'è il perfezionismo è quando una persona è perfezionista e cioè quando vorrebbe che tutto quello che fa ma non solo lei ma anche gli altri fosse perfetto ma perfetto come lo vede quella persona cioè nell'idea di perfezione di quella persona il che non significa che sia perfetto in modo assoluto dunque anche l'idea di perfezione è soggettiva ognuno di noi ha la propria idea di perfezione e anche nelle cose da fare quindi nelle attività ognuno di noi può ritenere se un'attività ma anche un pensiero ma anche uno stato d'animo sia perfettamente coerente al quindi dico una parolina magica al prototipo cioè all'archetipo di riferimento oppure no ma anche questo è soggettivo poiché ognuno di noi ha un'idea di perfezione che è diversa da quella dell'altro dunque tutto è relativo come diceva anche Einstein e quindi la teoria della relatività coinvolge anche l'aspetto sì degli stati d'animo e più precisamente di come noi consideriamo i nostri stati d'animo e quelli degli altri e anche i nostri comportamenti che sono conseguenti allora se noi andiamo a leggere la genesi del valore dell'accettazione cioè come è creato questo valore quali sono i suoi genitori perché ogni valore è comunque figlio diciamo così di uno dei sette archetipi a fondamento della vita che ricordiamolo sono volontà amore intelligenza armonia conoscenza ideale e ordine in questa sequenza e quindi significa che questa sequenza questo ordine di questi sette archetipi valori sono le funzioni creative e questo è l'ordine che si rispetta nella creazione quindi se noi vogliamo creare qualche cosa dobbiamo mettere in fila questi archetipi dalla volontà fino all'ordine in modo che la nostra creazione che sia un'idea che sia un sentimento o che sia un'azione sia potente e sia perfettamente diciamo così anche con diciamo l'adeguata approssimazione alla perfezione ma che sia coerente alla creazione dunque dobbiamo imparare anche a costruire forme coerenti in modo da utilizzare i sette archetipi che sono le sette funzioni creative in questo ordine volontà amore intelligenza armonia conoscenza ideale ordine sarebbe un bel passo in avanti perché creeremmo sicuramente delle forme più coerenti più armoniche al tutto e quindi anche più potenti quindi avrebbero effetti sicuramente positivi su tutta l'umanità allora andiamo a vedere questo simbolo adesso ve lo ripropongo il capo d'opera e come vedete la genesi dice il simbolo dell'accettazione nasce dalla stima cioè dal valore della stima e dal valore della diversità quindi stima e diversità che possiamo dire sono altri 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 figli vedete qui c'è una progenie di valori no che man mano noi andiamo a scoprire da quei sette che si sono combinati tra loro hanno dato origine a 49 7 per 7 poi 49 per 49 fa 2401 addirittura 2401 valori da scoprire ma noi adesso siamo arrivati diciamo col nostro gruppo di lavoro sui valori ha ben 150 valori certo non sono i 2401 che 49 per 49 ma sono sempre tanti poiché a questi 150 abbiamo trovato tutti i simboli che corrispondono voi sapete che è un simbolo è quella immagine che contiene con le sue forme geometriche tutta la forza di quel valore i simboli funzionano in questo modo ed è per questo che sembrano astrazioni in effetti sono simboli astratti tutti i simboli tutti i veri simboli sono astratti perché sono fatti da figure geometriche che anche loro sono astratte quindi perché perché le figure geometriche il triangolo voi lo vedete no questo c'ha una stella un cerchio ecco sono fatte costituite da linee di forza linee di forza che sono chiamate vettori quindi linee di forza che messe in un certo modo disposte in certe direzioni vanno a creare ad esempio una stella oppure un cerchio se è una unica linea di forza che è fatta in tondo che poi il cerchio in realtà è una linea retta se noi pensiamo al cerchio come una linea di luce che va nello spazio essendo lo spazio sferico quindi c'è una curvatura e allora questa linea retta compirà un intero cerchio percorrendo tutto lo spazio quindi il concetto di linea retta si avvale anche a quello di quella linea che contorna la circonferenza del cerchio ma qui andiamo un po' anche diciamo in concetti non solo geometrici ma anche filosofici e metafisici rimaniamo sul concreto quindi i simboli sono fatti da linee di forza che raffigurano geometrie e queste linee di forza sono i vettori proprio di energia ecco perché un simbolo è sempre stato potente e considerato potente da tutte le civiltà orientale occidentale quel che sia da quell'egizia e anche prima e in avanti dunque noi utilizziamo i simboli a effigie dei valori cioè delle funzioni vitali che diventano col loro simbolo degli archetipi perché sono delle forme prototipiche cioè la prima forma ad alta vibrazione che contiene tutte le energie di quel valore che noi possiamo utilizzare semplicemente guardandolo e guardando quel simbolo lo evochiamo in noi ed ecco perché anche noi consigliamo di indossare il simbolo o con una medaglietta come esempio questa che io ho vedete al collo il simbolo della bellezza lo porto in questo periodo al collo con me perché voglio che evochi in me questo principio di bellezza affinché io possa vedere tutte le cose attraverso il filtro della bellezza perché mi aiuta mi aiuta a stare meglio e a vedere il mondo e le attività del mondo a una vibrazione più alta che se non io le guardassi ad esempio con gli occhi della bruttezza è chiaro no quindi comprendete come un simbolo nel momento in cui noi ne abbiamo la consapevolezza ci può aiutare a sintonizzarci sulle note della vita a questo servono i simboli a questo servono i valori e conoscerli non solo ci fa crescere ma ci fa stare meglio e questo anche il fondamento del metodo archetiline che cura attraverso i valori quindi attraverso gli archetipi e loro simboli bene vi ho fatto come dire una panoramica del diciamo dei concetti a fondamento del metodo archetiline e anche di questo metodo appunto di cura che noi stiamo sperimentando già e con anima ribelle il sito anima ribelle punto org noi diamo questo servizio gratuito alle persone che hanno dei disagi quindi come vedete quando si incomincia ad avere una visione di insieme si scopre che alla fine la salute stare bene sentirsi in pace non è così difficile basta aver bene presente quali sono i valori le funzioni vitali le principali funzioni vitali che sono quelle sette che vi ho detto con tutte le loro combinazioni ma posso dire che in quei 150 valori che abbiamo di cui abbiamo trovato i simboli già risolvono il 99 per cento delle situazioni quindi al di là dei 2401 valori possibili cioè 49 per 49 le combinazioni possibili già con questi 150 magari se ne aggiungerà ancora anche qualche un altro perché il lavoro sta continuando ma insomma anche fossero il doppio 300 simboli di 300 valori noi avremo tutte le possibilità di poterci curare di poter elevare la nostra vibrazione attraverso quei valori e i loro simboli allora ho fatto un escorso un po ampio ma per farvi comprendere come questa struttura è stata non solo pensata ma anche l'abbiamo sperimentata e continuamente stiamo facendo degli aggiustamenti per ottimizzarla dunque questo simbolo dell'accettazione che nasce dalla stima dal valore della stima e della diversità che si uniscono si compenetrano proprio a creare il simbolo dell'accettazione e dunque significa che accettare è un di amore prima di tutto è un atto di amore e di conoscenza perché vedete che nel simbolo c'è la stella arancione che è quella del valore della conoscenza del diverso quindi abbiamo significa portare rispetto per il diverso colui che è diverso da noi è in questo modo che possiamo accettarlo affinché ciascuna differenza sia assorbita in noi e produca nuove connessioni e opportunità dunque vedete pian piano che entriamo in questo mondo dei valori e ce n'è un gran bisogno perché oggi diciamocelo sono un po' disconosciuti questi valori viviamo in una civiltà occidentale ampiamente pragmatica e materialista per cui valgono e sono in vigore solo quei valori materialisti che servono ad alimentare il materialismo sì ci sono anche quei valori che li possiamo considerare valori oppure anche dei gradi di valori che ne so l'apparire l'apparenza noi sappiamo c'è un antico adagio un antico proverbio che dice l'apparenza inganna e infatti è proprio così ma oggi la nostra civiltà occidentale è tutta basata o in gran parte basata sull'apparenza sul apparire apparire più importante che essere e infatti ci mettiamo continuamente delle maschere dei trucchi diciamo così per apparire in un modo piacevole piacente per fare buona impressione sugli altri ma che tipo di impressione sarà più o meno adeguata al tipo di civiltà a quello che vogliono gli stereotipi e dunque apparire a tutti i costi a volte si diventa veramente delle maschere di se stessi no a forza di mettere maschere e lo vediamo anche in trucchi eccessivi ad esempio di alcune signore che per mascherare la loro età si rifanno come 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 si dice no un un visage cioè si rifanno noi i tratti il naso la bocca le labbra oggi pare che le labbra debbano essere enormi ecco perché altrimenti non sono belle e anche qui i gusti cambiano anche secondo le epoche no oggi vanno i labbroni va bene e e dunque però alcune alcune si imbruttiscono invece che abbellirsi e specie quando vogliono ormai l'età non le non le tiene più insieme e quindi vogliono per forza apparire più giovani ma insomma va bene questo è un peccato veniale fin per carità non 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 lo giudico nel senso negativo è è come una cartina di tornasole cioè un sintomo è un sintomo di come questa nostra società e civiltà soprattutto occidentale ma ormai anche quello orientale sta prendendo tutti gli stereotipi di quello occidentale perché con i social no con l'informazione che ormai è istantanea tutti copiano tutti e quindi c'è chi lancia la moda e poi tutto il mondo perlomeno tutti quelli che hanno un telefonino in qualche modo ne vengono a contatto e possono seguirlo meno ma l'informazione gira e circola velocissimamente anche troppo veloce va bene ritorniamo però su questo nostro simbolo e questo nostro capo d'opera e andiamo a vedere il primo elemento il primo mantra che è quello che va a proiettare sapete come tutti i mantra che sono parole di potere va a proiettare il suono che è l'elemento principale il fattore principale potremmo dire di creazione no tutto è creato col suono il suono che crea ormai è un assioma che si conosce e dunque il primo fattore della creazione è il suono poi segue la luce poi il colore la vibrazione infine l'azione no che per quanto riguarda un essere umano significa una cascata no diciamo una sequenza cascata per dall'idea riuscire a l'azione creare concretizzare ecco perché i nostri capi d'opera sono fatti in questo modo genesi e poi che è l'origine del valore poi suono luce colore vibrazione e infine azione con l'azione si precipita si concretizza quel valore dal simbolo all'azione ecco la catena creativa il suono il suono dell'accettazione recita così apro l'ingresso a nuove conoscenze per cavalcare le sfide del futuro è un mantra che è ricco di significato come avete sentito innanzitutto apro inizia con un verbo apro l'ingresso è come spalancare una porta un gate ecco c'è qualche cosa che mi è precluso e io lo apro accettando apro faccio questo prima azione questo primo gesto interiore anche ma anche mentale ad esempio di aprire la mente a nuove conoscenze questa mente che si apre e vede il nuovo il nuovo che arriva è così che l'umanità progredito vedendo il nuovo accettandolo e poi costruendo tecnologie per poterlo applicare questo è il progresso è questo questa è l'evoluzione dell'umanità da un'idea una visione del nuovo nuove opportunità nuove possibilità ma anche nuove esigenze e necessità ecco la creazione anche poi di manufatti tecnologia per poter utilizzare meglio quell'idea nuova e man mano così dalla prima clava vi ricordate 2001 no quell'ominide che prende quell'osso quel femore e lo sbatte e lo fa diventare un tensile un tool su una una clava con cui poi poteva uccidere gli animali per sfamarsi ecco quindi vedete no subito l'uomo la caratteristica dell'uomo anche se primitivo è quella di fabbricare oggetti o vedere in un oggetto in quel caso un osso di un femore vedere uno strumento questa è l'intelligenza e questa è la creatività umana che gli animali non hanno abbiamo noi vediamo una cosa e subito vediamo come la possiamo utilizzare a nostro beneficio come uno strumento è incredibile no come funziona e da quel femore è diventato una clava via via si è sviluppato tutto quanto la nostra tecnologia fino ad arrivare alla intelligenza artificiale che è un bene un male ma secondo di come la usiamo in sé per sé gli strumenti non sono né bene né male ci possono essere utili secondo non solo le nostre necessità ma il nostro proposito cioè la nostra intenzione e l'esempio è classico è l'intenzione che fa sì che lo strumento venga utilizzato per il bene o per il male faccio l'esempio appunto classico il martello se lo usiamo per piantare un chiodo e non ce lo diamo sulle dita lo usiamo per il bene perché il chiodo si pianta magari per appendere un quadro ecco ma se lo usiamo sulla testa di una persona lo usiamo per il male perché gli spacchiamo la testa quindi il martello non ha nessuna colpa è fatto così per battere su qualche cosa e farla penetrare in qualche cosa di altro un chiodo che penetra nel legno o in un muro abbiamo inventato il martello uno strumento per quello scopo dunque dobbiamo solo comprendere che l'intenzione che fa della tecnologia bene o male o meglio che fa che rende la tecnologia bella o brutta ma la tecnologia di per sé è neutra ok è l'intenzione per quale scopo la usiamo quella tecnologia che fa la differenza bene allora apro l'ingresso a nuove conoscenze per cavalcare le sfide del futuro e qui saltiamo in groppa a cavallo delle sfide cioè di quello che il futuro ci riserva e di poter essere sempre all'altezza delle necessità che man mano arrivano proprio nel corso dell'evoluzione quindi noi dobbiamo essere in grado di cavalcare queste sfide non possiamo farci trovare di sorpresa e quando noi accettiamo il nuovo accettiamo anche le sfide che ci arrivano dal nuovo e solo attraverso l'accettazione che impariamo a cavalcarle che possiamo cavalcarle perché quando accettiamo qualche cosa che sia un'idea un pensiero una persona o una situazione noi ci predisponiamo e in qualche modo la vita ci dà anche gli strumenti naturali affinché noi si possa appunto cavalcare quella novità e come si guidano i cavalli per le redini noi possiamo cavalcare quelle opportunità tenendola per le redini e cioè indirizzandola dove noi vogliamo questa è l'arte di utilizzare la tecnologia eh sì e in modo intrinseco è anche l'arte della creazione noi creiamo qualche cosa per utilizzarlo e siamo sempre noi che attraverso l'intenzione abbiamo le redini di quel cavallo nell'esempio che ci può portare a destinazione dunque il suono bel mantra potente apro l'ingresso a nuove conoscenze per cavalcare le sfide del futuro e quando io accetto e accetto il futuro qual qualunque esso sia io sono pronto sono pronto ho già le redini in mano andiamo alla luce e qui la luce all'immagine questa immagine la vedete no di eh queste due persone forse un lui e una lei con le braccia alzate il dito indice alzato che puntano al cielo al cielo stellato al cielo notturno stellato ecco se noi volessimo ricavare un mantra eh come 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 potrebbe essere adesso me ne invento uno così all'istante eh osservo il sopra come possibilità di nuovo questo è un possibile mantra guardando questa immagine ma anche potrebbe essere eh se prendo lo spunto da dalle braccia alzate no dei due che a terra guardano il cielo potrei anche dire ad esempio a indico il futuro lontano o anche prendo quel futuro e lo porto a me vedete possiamo inventare inventare diversi mantra che abbiano sempre quel significato in questo caso vi è una connessione tra noi il cielo quindi il futuro l'immensità del cielo notturno trapunto di stelle che sono tutte le possibilità che il futuro ci può donare noi le vediamo come punti luminosi e quel dito alzato quel braccio che indica è una connessione tra noi e quelle possibilità nel cielo ecco come vedete no quando mettiamo in moto l'immaginazione noi possiamo creare perché si crea immaginando e allora ecco che poi trovatelo voi quel mantra per la luce vi ho dato alcuni esempi affinché quel mantra stabilisca in un altro livello che non è quello del suono la luce agisce proprio sulla mente il suono agisce su uno stato superiore alla mente che proprio il livello della coscienza di per sé ma la luce il mantra della luce agisce sulla mente e infatti c'è un'immagine perché immediatamente il cervello nostro funziona per immagini e quindi ecco che poi mette insieme ricordi e tutto quanto che sono sempre per immagini e dunque la mente funziona a immagini sì sì funziona proprio così andate a cercarlo anche nei testi più avanzati di come si chiama la scienza che studia il cervello e vedrete che è proprio in questo modo ormai un dato assodato il cervello funziona per immagini sono tutti stimoli elettrici ovviamente ma quando noi pensiamo siccome è subliminale cioè talmente veloce che non ce ne accorgiamo sono nanosecondi ma quando noi pensiamo i nostri pensieri derivano sempre in nanosecondi quindi alla velocità della luce dall'immaginario collettivo quello esiste quindi qualsiasi nostro pensiero lo cogliamo sempre lì in modo velocissimo che non ce ne accorgiamo io intanto che parlo ci sono i miei neuroni che stanno attingendo e siccome avviene alla velocità della luce noi non ce ne rendiamo conto lo chiamiamo ad esempio le immagini subliminali no quel fotogramma che nello scorrere di un film quando è ancora pellicola no c'è un fotogramma su 25 o secondo di quanti sono generalmente in italia sono 25 fotogrammi al secondo e un venticinquesimo di secondo noi non ce ne accorgiamo ma lì c'è un'immagine che detta subliminale che può non centrare niente con il film che stiamo vedendo ma viene catturata dalla retina e dal cervello e lavora profondamente proprio perché non passa attraverso la coscienza ma va direttamente al nostro inconscio e subconscio quindi rimane impressa stampata nel subconscio e poi magari noi agiamo in un certo modo e non comprendiamo il perché un esempio di questo è stato fatto forse lo sapete in alcuni film di walt disney ovviamente non è stato fatto apposta ma qualche montatore di cinema no sapete quando arriva la pizza no è pellicola e si può montare qualche uno ha fatto lo scherzo di introdurre un fotogramma dentro la biancaneve e sette nani di un'immagine porno di un film porno ma un solo fotogramma dentro la biancaneve e sette nani e quando scorre nessuno se ne accorge poi questa notizia è uscita fuori perché qualche uno se ne è accorto ma non guardando i film guardando la pellicola si è accorto che c'era quel fotogramma altrimenti non se ne accorge la coscienza ma quella immagine viene impressa nel subconscio si chiama subliminale proprio perché viene impressa nel subconscio ed è anche la pubblicità le usa di altro genere ovviamente legate alla vendita no a quello che vuol vendere e sempre più si usano non solo immagini subliminali ma anche parole subliminali che noi chiamiamo parole chiave in un discorso quando voglio renderlo persuasivo e persuadente a secondo del pubblico che ho davanti posso utilizzare delle parole chiave che in quel discorso entrano a fagiolo e fanno sì che anche ovviamente con la tonalità della voce e tutto il resto ascoltate i venditori quelli bravi no che conoscono perfettamente queste tecniche di vendita che addirittura sono antichissime si rifanno al periodo atlantideo si rifanno al periodo nel quale la magia era fatta attraverso l'incantesimo proprio che ti incanta ti fa rimanere così ti ipnotizza quasi e poi tu vai a comprare un prodotto perché ti ha ipnotizzato l'incantatore il venditore incantatore e tu lo vai comprare perché non solo ti ha ipnotizzato ma ti ha anche attraverso quella pseudo ipnosi quell'incantamento ti ha anche fatto uscire fuori la voglia di avere quell'oggetto il come dire l'emozione il sentimento che è bello avere quell'oggetto perché ti ha incantato c'è un altro modo di dirlo ti ha affabulato ecco vedete le favole ti ha affabulato eh sì questa è l'arte dell'affabulazione quella del venditore quella del vendere dall'arte magica dell'incantamento è diventata l'arte dell'affabulazione vedete stiamo parlando di accettazione il che non vuol dire accettare tutto supinamente ma sapere accettare poiché conosco allora io posso accettare anche le tecniche di vendita più subdole ma proprio perché le conosco vedete qua nella genesi stima e diversità e nella stima c'è la lo vedete ancora qui no c'è la stella cinque punte della conoscenza la stella arancione quindi accettare non vuol dire come un babbione che mi bevo tutto no e che accetto tutto così no accetto perché conosco posso anche conoscere e quindi accettare il sistema di affabulazione di cui parlavo ora ma non ci cascherò dentro proprio perché lo conosco lo accetto lo accetto perché fa parte del gioco lo accolgo in me perché è meglio accogliere che rifiutare perché se io accolgo lo posso elaborare ma se non lo accolgo e lo rifiuto non lo conosco e continuerà a produrre negatività invece quando io accetto qualche cosa la conosco proprio perché la sto accettando e quindi ho la possibilità di conosco perché la inglobo e quindi la posso osservare la posso riconoscere posso plasmarla ho un dialogo con questo nuovo con questa novità che ho accolto e quando la si conosce la si può gestire molto meglio di quando non la si conosce è chiaro questo quindi accetto per conoscere e poi anche scegliere poter scegliere meglio è sempre meglio conoscere che rimanere ignoranti anche se la conoscenza ha il suo impegno ovviamente è sì abbiamo visto la luce vediamo il colore allora il colore recita il mantra del colore rendo coesa la causa all'effetto producendo un balzo di qualità ha interessante questo mantra rendo coesa la causa l'effetto vuol dire che è vero che cause d'effetto sono già collegati perché altrimenti non ci sarebbe l'effetto no senza la causa non c'è l'effetto l'effetto rivela la causa non sempre ma sappiamo che ci sarà da qualche parte una causa in base a quell'effetto e a volte dall'effetto risalendo la china si arriva alla causa ma bisogna anche sapere investigare bene non solo dedurre ma anche riuscire ad avere un intuito a volte l'intuizione ma qui ci sta dicendo una cosa in più che quel rendere coesa la causa l'effetto vuol dire rendere coscientemente coerente cioè ci dice che c'è di mezzo la coscienza c'è di mezzo io l'osservatore sono io che sto osservando l'effetto e proprio per la mia capacità di conoscenza li unisco cioè vedo l'effetto e colgo la causa e allora vedo vedo io coscienza la coerenza che c'è intrinseca tra causa ed effetto effetto e causa avanti e indietro dalla causa dalla causa dalla causa ma sono io coscienza che devo diventare consapevole e allora allora si svela il resto del mantra producendo un balzo di qualità si svela la il prodotto della connessione tra cause ed effetto la coscienza la coscienza io osservatore io cosciente li rimetto insieme li riunisco li rendo coesi e il balzo di qualità è dato dalla mia comprensione ho una visione vado oltre è la visione dell'insieme dell'aver riunito l'effetto con la causa non sono più duali sono ritornati uno lo sono sempre stati ma non agli occhi dell'osservatore entro l'esistenza umana entro l'apparenza in cui noi vediamo sempre l'unità scissa in una coppia di opposti e dunque con il colore che viene erogato direttamente dal cuore con questo mantra del cuore della qualità intrinseca del valore dell'accettazione io riunisco gli opposti io li riporto entro il cuore non più con la mente che era la luce ma con il cuore con il mio corpo senziente con il cuore che sta la verità non ha bisogno di spiegazioni quando noi sintonizziamo il cuore alla vita abbiamo tutte le risposte che ci servono il cuore ci dice la verità e allora rendo questa la causa l'effetto producendo quel balzo quel salto di qualità che è la qualità cardiaca la qualità del cuore ecco la forza di questo mantra dunque espando il mio cuore accettando il futuro e effetto e causa ritornano uno io sono il creatore io ricompongo all'unità la creazione attraverso lo sguardo del cuore e passiamo alla vibrazione carico la forza creativa per esplorare il dentro e il fuori anche qui c'è sempre questo concetto carico la forza creativa voglio ritornare in primo piano carico la forza creativa per dice esplorare il dentro e il fuori dunque è seguente al colore nel colore vedo l'unità in quel mantra e attraverso la vibrazione che il sentimento personale che io provo io provo io essere umano provo sentendo la qualità intrinseca del valore dell'accettazione e dunque la vibrazione pur essendo un mantra che ognuno di noi può recitare può pronunciare ma il sentimento che sgorga è personale individuale carico la forza creativa quindi la carico dentro di me carico la forza creativa significa mi sento creatore mi sento che in me ho questa forza di creare e quindi divento consapevole di avere questa forza e come la utilizzo ebbene in quel sentimento che sta sgorgando dentro di me da dentro di me voglio esplorare i due mondi quel dentro la nostra interiorità e il fuori la nostra esteriorità il nostro ambiente l'ambiente in cui viviamo dunque la vibrazione quel sentimento che nasce dentro di me attraverso il valore dell'accettazione mi porta a esplorare a anche e qui ricongiungere la mia interiorità con l'esteriorità quello che io sono con quello che è l'ambiente riconoscendo ciò che è fuori di me nell'ambiente riconoscendolo e accettandolo se lo riconosco lo accetto e vedete quindi come anche la vibrazione sta lavorando sul mio corpo senziente e mi dà la forza per esprimere un sentimento sincero di accettazione affinché possa nascere cooperazione collaborazione conoscenza riconoscimento amicizia ecco vedete come in un in una frase congeniata cioè pensata e predisposta con quelle parole chiavi che vi dicevo prima le parole chiave perché sono quelle che servono a rendere potente una frase quella frase diventa un mantra cioè diventa espressione forza creativa e può indurre sintonizzare quello che è l'energia e portarla in forza dentro di noi per non solo rafforzarci ma anche darci quella carica per farci stare in salute io vi dico che questi capi d'opera utilizzati nel modo in cui io vi sto illustrando e vi sto semplificando ebbene diventano veramente degli strumenti salutari per farci ritornare a quei valori a quella vibrazione originale dei valori che siccome sono tutte quante funzioni vitali qualità della vita qualità della creazione la vita è fatta di valori di qualità siamo noi che poi quando poi attraverso il nostro sguardo malato o miope le abbassiamo in frequenza e le interpretiamo quindi che invece di riuscire a esprimere le qualità le facciamo diventare dei difetti le facciamo diventare dei disagi dei degradi ma siamo noi esseri umani con la nostra natura imperfetta e ci servono anche per ricordarci qual è la perfezione la perfezione è sempre quella del valore archetipico ecco quindi è tutto un lavoro questo per rito dalla profondità in cui siamo sprofondati risalire in superficie e riprendere la luce del sole come sapete un sommozzatore che è andato sotto e poi deve risalire per ritornare alla luce ecco e questi capi d'opera ci possono aiutare proprio a ritornare alla luce a riprendere la luce dell'archetipo quindi del valore originale è chiaro penso proprio di sì veniamo all'ultimo o voglio vedere un attimo perché il tempo passa a però 47 minuti anche senza ida vedo che insomma come dire i concetti sono sono tanti ma sono tanti perché nel capo d'opera è tutto sintetizzato è tutto concentrato e quando vi spiego vi sto spiegando il significato di questi mantra vedete come no si amplia perché il mantra è anche un concentrato di energie di forza e allora vediamo l'ultimo l'azione o quindi quello che precipita tutto quanto e lo concretizza mi pongo con lo sguardo dell'altro e vedo soluzione soluzioni inaspettate sì soluzione è un refuso ma insomma e vedo soluzioni o la soluzione inaspettata va bene cosa significa questo che gli altri ci fanno da specchio e se io riesco a vedere con lo sguardo dell'altro sto cambiando punto di vista e riesco a vedere qualche cosa che magari solo dal mio punto di vista non riesco a vedere perché ognuno col suo punto di vista è limitato no abbiamo un angolo ecco ma se siamo già in due guardare quell'angolo raddoppia no il cono di dello sguardo raddoppia e quindi più accetto lo sguardo degli altri che vuol dire anche le idee degli altri quello che pensano i sentimenti insomma come si propongono quello che esprimono e più trovo soluzioni inaspettate cioè più si amplia la gamma delle possibilità e delle soluzioni quante volte da soli non riusciamo a risolvere un problema e poi arriva un'altra persona ci dice ma guarda non vedi quello non l'avevo proprio vista questa possibilità e ci fa risolvere un problema a volte siamo noi che aiutiamo un altro quindi vuol dire che accettare anche accettare gli altri e accettare l'idea degli altri e trovare i punti di incontro tra le nostre e le loro idee anche se sono diverse ci aiuta non solo a crescere ma a trovare in tempi più veloci e anche meglio le soluzioni necessarie ai nostri problemi nostri di tutta l'umanità perché i problemi non sono mai nostri mio tuo suo ma sono sempre si arrivano a me o a te o a lui o a lei ma rispecchiano sempre i problemi dell'umanità perché ricordiamocelo sempre tutti gli esseri umani non importa di quale razza di quale colore della pelle ridono e piangono per gli stessi motivi in tutto il mondo dai paesi civilizzati agli aborigini dell'australia si ride e si piange per gli stessi motivi questa è la grande legge dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani tutti quanti possiamo ridere e ci fanno ridere anche se non comprendiamo la lingua ma a volte per una mossa no per un'espressione ecco che è la lingua universale e ci fa piangere per le stesse cose piangiamo i dispiaceri sono uguali in tutto il mondo sono gli stessi piacere dolore ci accomunano tutta l'umanità accomunata da questo ecco e quindi quando noi abbracciamo anche un'idea dell'altro anche con le dovute come dire differenze sfumature ci mancherebbe ma incominciamo a comprendere che c'è un altro punto di vista che possiamo considerare insomma avete compreso che il valore dell'accettazione ci libera è un valore liberatorio ok allora sì credo che siamo arrivati alla fine di questa puntata e allora beh vi aspetto e vi attendo alla prossima e mi raccomando buona accettazione a tutti alla prossima ciao